eccoci 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 rieccoci come state un buon tardo pomeriggio una buona serata da milanello la casa dei milanissi su youtube vi ricordo come sempre di commentare numerosissimi di lasciare un bel like qui sotto se amate il milan iscrivetevi da questa parte attivate la campanella qui sotto nel link in descrizione trovate il link del video podcast di marco van basten da non perdere godetevelo e ovviamente l'iscrizione al mio canale personale qui sotto con break news in cui ci sono anche degli annunci speriamo di darne tanti in questo periodo qui e quindi mi raccomando iscrivetevi ora subitissimo al canale grazie 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 un accenno al discorso stadio e poi tanto calciomercato che finalmente è intenso perché sapete che lo stadio è una nostra salvezza futura con lo stadio ci sarà il passaggio di proprietà ebbene ha parlato l'ad di we build che come sapete sta cercando di convincere milan e inter a restare a san siro ristrutturandolo ha presentato un po di diciamo così dettagli in più abbiamo presentato un progetto rivoluzionario lo definisce così la realizzazione del progetto che incorporeremo nella pratica significa per i due club calcistici e per la città avere uno dei migliori stadi che regge il confronto con gli stadi di alta qualità a livello internazionale quindi parla di stadio rivoluzionario e alla pari di quello che c'è attorno dei migliori in circolazione ovviamente ognuno deve tirare acqua al proprio mulino deve presentare il proprio prodotto come quello migliore di tutti non so quanto uno stadio ristrutturato possa arrivare a competere con stadi fatti da nuovo da capo appunto che sappiamo invece essere ultra moderni vediamo che cosa succede appunto lo dico sempre e aspettiamo ancora un po di tempo quantificato da sala il sindaco di milano in due barra tre mesi quindi agosto settembre fine ottobre massimo la decisione dei club milan che si muove sul calciomercato abbiamo parlato di pavlovich adesso parliamo anche di altre situazioni ma milan che guarda anche un po il futuro e ha messo gli occhi su un giocatore che piace molto anche l'atalanta altra squadra molto attenta ai giovani che è un italo guineano di nome al fadio di cognome sisse 17 anni ne farà 18 diventerà maggiore è nato a treviso italiano trequartista del verona che vorrebbe portarlo in prima squadra il prossimo anno dovesse rimanere lì e anche dell'under 19 italiana in cui ha fatto quattro partite e un gol in milan pensa lui per l'under 23 con affaccio futuro eventualmente se andrà bene la prima squadra ma se ne riparerà eventualmente tra qualche anno giocatore che ha 56 gare con la primavera 20 gol e 3 assist viene considerato un bel talento primi contatti tra il milan e il verona con la situazione ad esempio a gennaio che si era sbloccata per terracciano buoni rapporti con solliano al momento però non sembra essere una trattativa facile con il verona che vorrebbe tenere un altro anno e portarlo in prima squadra giocatore che ripeto tra qualche mese farà 18 anni non lo conosco se qualcuno di voi lo conosce lo ha seguito lo sta seguendo mi dia delle segnalazioni così che insomma lo conosciamo un po tutti leggendo anche i commenti qui sotto poi proseguendo nel video ragazzi salvo sorprese che nel calcio mercato ci sono sono dietro l'angolo salvo sorprese attenzione salemakes dovrebbe restare al milan ne sarei e ne saremo in tanti molto contenti giocatore che è cresciuto molto nell'anno al bologna giocatore che può essere un perfetto subentrante quando le cose vanno bene quando devi gestire la partita e là davanti il milan se resta salemakers mi sembra molto completo a parte poi l'attaccante del quale adesso parliamo il secondo attaccante quindi c'è varietà e varietà di colori mancava il colore alla salemakers ce lo abbiamo teniamolo e non parliamo ne più e vediamo appunto se effettivamente verrà accontentato fonseca le indicazioni che arrivano dagli states ci dicono che salemakers dovrebbe restare quest'anno e devo dire bravo perché è arrivato un po col muso ha avuto subito un dialogo con fonseca e ha capito che poteva giocarsi le sue chance non c'era una chiusura da parte del tecnico anche se il mercato nel frattempo diceva che il milan stava cercando di piazzarlo ha dimostrato grande impegno applicazione serietà professionalità maturità e quindi salemakers dovrebbe rimanere al milan non so se questo può dare lo spazio magari un'uscita diversa vedi ocafor qualcuno mi chiedeva non è che magari cediamo ocafor tutto può essere se cedi potrebbe avere un senso anche se io preferirei tenermelo perché se tu cedi ocafor e monetizzi perché loro per loro è importante monetizzare tu saresti comunque coperto perché se manca leo sulla sinistra metti pulisic sulla sinistra e di là i ciucquezze se manca pulisic ai ciucquezze ma i salemakers che può fare entrambe le fasce è vero che ocafor è un giocatore con attitudini più offensive rispetto a questi rispetto a salemakers soprattutto e quindi potremmo anche tenere o si giocherà tanto ci sarà la champions league ci saranno diverse partite poi la coppa italia speriamo di una volta arrivare fino in fondo e magari vincerla ci sarà poi la supercoppa e ovviamente il campionato la champions speriamo di arrivare a farne tante e quindi potrebbero servire tutti salemakers dovremmo essere di fronte ripeto una decisione non dico definitiva ma credo che quando parla fonseca nella notte di ieri e dice io lo terrei credo che si sia confrontato che con il club e non stia dicendo qualcosa fuori dal coro aziendale anche se ho apprezzato poi ragazzi stiamo muovendoci anche sul mercato in uscita e da alcune discrizioni che arrivano dall'inghilterra molto autorevoli se il fatto che ciao andrà a newcast secondo me è molto probabile non dico scontato però è molto probabile ne parliamo da diverso tempo ne ho parlato anche il video di questa mattina anche ieri e quindi sostituiamo uno con un altro ma ci serve qualcos'altro detto questo sembra in inghilterra parlano di 41 milioni di euro bonus compresi come cifra che il minan spunterà dalla cessione di malik ciao al club inglese 41 milioni bonus compresi sarebbero tanti tanti a quella cifra sicuramente lo devi vendere per come ragione la nostra dirigenza ovviamente sarebbe bello poter ritenere tutti anche se io credo che malik ciao possa fare una bella carriera però fossero 41 milioni sarebbe una cessione molto remunerativa e ben fatta così come lo scorso anno quando vendi a 70 80 milioni tonali che devi dire a quale cifre cambiati tempi difficilmente riesce a dire no poi è successo anche quella cosa è stata un'operazione fondamentale su ciao se vende a 41 ciao per come ha fatto male nell'ultimo anno secondo me stai vendendo bene sfruttando ovviamente anche il potere di acquisto della premier league in cui si può acquistare sicuramente spendendo qualcosa di più rispetto al valore del giocatore qualcuno faceva ironia sì ciao 30 se ciao è 41 chi faceva ironia ciao ciao ecco in questo caso se fossero 41 40 il minan avrebbe ceduto bene e in caso di questa uscita così a queste cifre farei senza problemi i complementi alla società perché bisogna saper vendere saper vendere bene avrebbero ceduto bene un giocatore che per caratteristiche non è bravo a difendere alto non è veloce nel campo aperto non è adatto al modo di difendere di paolo fonseca l'abbiamo detto dal giorno a zero dell'insediamento del tecnico portoghese e là davanti allora intanto dietro ripeto secondo me ne manca uno ribadisco e battiamo insieme su questo tasto perché non bisogna lasciare nulla al caso non voglio pensare a cose brutte successo lo scorso anno alla fine di richiamare gabbia non avevi chi mettere dentro però ecco gabbia tomori calulu e e pavlovich non siamo coperti ne manca uno ne manca uno e magari anche un giocatore di esperienza o un giovane futuribile giovane forse ha bisogno di giocare forse sarebbe meglio un giocatore di esperienza ecco chi mi piacerebbe terribilmente e non si è ancora accasato è ermoso a parametro zero mettiamo dentro anche ermoso avremo tante possibilità tra l'altro ermoso può fare anche il terzino sinistro all'occorrenza alternativo a teo hernandez la davanti secondo me da tre quarti in su intanto proseguono i contatti con lazar samaric l'affare si è un po non dico bloccato effettivamente un po rallentato un po fermato sì perché minan contava di piazzare dentro ad lì o pobega ma il club friulano ha detto no non ci interessa e quindi bisogna cercare di vendere altrove per raggranellare la cifra che chiede l'udinese che sono 20 milioni più 5 di bonus però si prosegue e per me sarebbe una grande operazione da tre quarti in su vi dicevo siccome siamo messi molto bene ma c'è un asterisco sulla destra pulisic e ciuquezze che forse ha schiacciato il click e ha svoltato sulla sinistra leao e okafor davanti morata tre quarti appunto samaric barra loftus vediamo se arriva samaric morata e jovic c'è ancora lì però serve l'altro attaccante serve io spero di confermare anche jovic e di tenermi anche l'altro attaccante bisogna fare anche un po i conti con la questione liste perché poi non è che puoi prenderli tutti e qualcuno deve star fuori o qualcuno deve fare spazio a qualcun altro e magari qualcuno non è un esubero un giocatore anche centrale quindi quindi poi bisogna fare delle scelte particolari bisogna fare un lavoro di fino di taglio e di cucito detto questo l'attaccante bisogna prenderlo ebbene la prima notizia che arriva da dortmund ne accennavo sul mio canale personale è che il borussia dortmund sicuramente cede uno dei suoi attaccanti in rialzo le quotazioni di una permanenza di fulcrug al ho detto bayern monaco no borussia dortmund che che potrebbe rimanere lì perché il tecnico ha espresso la sua preferenza su alcuni attaccanti e la bocciatura tra virgolette su mococo e quindi potrebbe partire non dico che viene al minan però significa che se parte questo non parte l'altro quindi fulcrug in questo momento sembra un po più lontano dal minan anche se i contatti con la roff proseguono la roff è l'agenzia è un'agenzia che ha tanti giocatori nel suo portfoglio ha sicuramente appunto fulcrug che mi piacerebbe molto mi piacerebbe molto vederlo anche se non mi sembra magari un investimento da questo tipo di società perché prendi paghi magari 15 un giocatore di 31 anni che non rivendi lo hai già fatto con morata attenzione sullo sfondo ma neanche troppo sullo sfondo e devo ristarnutire chiedo scusa un altro ne arriva tripletta no doppietta doppietta l'esordio è l'attaccante che vi sto per dire sullo sfondo ma neanche troppo sullo sfondo c'è sempre un nome ecco del quale siamo stati primi a parlare mesi fa due mesi e mezzo fa mi dicevano attenzione perché al minan piace questo profilo piace anche a fonseca e vi avevo detto una cosa sbagliata fonseca lo ha avuto e con lui ha fatto la migliore annata qualcuno poi mi ha corretto fonseca quando arriva quando se ne va via fonseca arriva invece temi ebram attenzione perché lì è alla roma la roma non vorrebbe confermarlo lo ha a bilancio a 17 quindi si può spostare per 17 o più milioni oppure un prestito con diritto bar obbligo a una cifra magari diversa perché tra un anno avrà un ammortamento diverso attenzione a temi ebram in questo momento ecco graficamente freccia rossa in giù full club freccia verde in su ebram che però non è una cosa che si fa questa settimana ebram se la fai è una cosa che si fa dopo ferragosto addirittura l'ultima settimana di agosto quando devi prendere con le spalle al muro il club e dire io ti risolvo però le mie condizioni altrimenti resta lì il giocatore non può restare lì te lo prende alle giuste condizioni credo che a questo punto ebram vi piacerebbe io preferirebbe il miliato full crook ebram è un giocatore diverso ti dà anche delle caratteristiche variabili diverse può un giocatore essere rilanciato quando ha 26 27 anni credo che a questo punto contro il torino la prima giornata di campionato il 17 mancano 19 giorni giocherà non morata perché appena arrivato a milanello una settimana prima ma jovic come attaccante spero che poi io vi ci possa restare ma ripeto bisogna fare spazio bisogna fare spazio altrimenti alcuni giocatori non li puoi prendere faremo un focus anche su questo aspetto ditemi che ne pensate di ebram barra full crew che facciamo magari un sondaggino del discorso legato a malic ciao 41 va venduto una buona cessione per me è un prezzo molto buono e poi su salemakers che cosa mi dite o cafor può partire oppure no qualche uscita ancora più di qualche uscita va fatta è un lavoro che deve essere anche lì accelerato perché altrimenti ti trovi in difficoltà commentate lasciate un like iscrivetevi qui attivate la campanella iscrivetevi al mio canale personale guardati ora il video di podcast podcast di marco van bastien chi non si iscrive al mio canale personale tifa nicola berti ruben sosa con la gente scherzo ma non troppo un saluto e